Occhio ai giornali di oggi, martedì 23 marzo 2021, ben ritrovati cari telespettatori di Infano TV, siamo di nuovo insieme, sono le 7 in diretta e siamo qui per sfogliare i giornali, commentarli insieme da qui alle 7.30 circa, quando poi daremo la linea a Loreto dove dalla Santa Casa trasmetteremo la messa del mattino. Questo per chi ci segue in diretta, ma buongiorno anche a chi invece con un po' più di calma ci segue nel corso delle repliche. Andiamo a vedere il santo di oggi, il santo di oggi è Sant'Uribio de Mogroveio, il sole è sorto alle 6.08 e tramonterà alle 18 e 26 minuti. Adesso vediamo il tempo. Altre 24 ore di freddo e di neve, poi arriverà l'anticiclone, così titola trebimeteo.com, l'alta pressione in rinforzo da metà settimana, poi ci sarà un netto rialzo termico con alcune eccezioni. E comunque le previsioni che adesso andiamo a vedere sulla nostra regione, la nostra splendida regione Marche, ci indicano per la giornata di oggi cielo sereno su tutta la costa, sereno, poco nuvoloso, comunque sulla costa e sulla collina, un po' più nuvoloso invece all'interno. Questo è il pomeriggio e questa è invece la sera per domani, mercoledì 24 di marzo, ancora cielo sereno sia al mattino che al pomeriggio e anche la sera. Ma sarà un po' tutta la settimana così, niente da segnalare, mentre il sud dell'Italia, dalle marche in giù, insomma, Abruzzo in giù, sarà interessata anche appunto da questo freddo per altre 48 ore e qua anche della neve. Allora invece i titoli dei nostri quotidiani, il Corriere Adriatico e il resto del Carlino, sono i due quotidiani che prendiamo in esame tutte le mattine perché hanno gli inserti e le pagine dedicate al nostro territorio, ai nostri territori. Allora il pronto soccorso in trincea, questo è il pronto soccorso di Pesaro, del San Salvatore, picco di accessi al presidio con oltre 60 ricoveri nell'arco di una mattinata. Le marche sono la regione con la più alta saturazione ospedaliera, terapie intensive al 61%. A centro pagina invece il Corriere questa mattina pubblica la fotonotizia del progetto di un tunnel da effettuare sulla Statale 16, i pesaresi riconosceranno sicuramente la zona tra i viali della Repubblica e Vittoria. Per quanto riguarda invece l'alta velocità di spalla, vedete il progetto di fattibilità costa meno di 100 milioni. Ora il treno dei desideri, quello che viene chiamato il treno dei desideri per le marche dimenticate, ovvero il treno che corre sull'alta velocità della linea adriatica, è un'opera che secondo l'ordine degli ingegneri necessita di 10 anni di studi e di cantieri, ma soprattutto di 10 miliardi di spesa. Però c'è il primo grande ostacolo che è lo studio di fattibilità, che costa 100 milioni di euro. È un'enormità ovviamente per la regione Marche, c'è uno spiraglio però, uno studio OICE che certifica ribassi medi del 40%. Le associazioni dicono, siamo di nuovo su Pesero, decreto Draghi attività escluse. L'ospedale rischia adesso di perdere il primario Cicetti a Urbino, mentre a Fano fusione scoppiano la maggioranza e il gruppo del PD, la fusione tra Aset e Marche Multiservizi. Minacce per riavere i soldi, condannato un imprenditore responsabile di un tentativo di estorsione con il mandante, pene anche gli esecutori. Un mese di telefonate con minacce per riavere dei soldi, un imprenditore condannato con mandante della tentata estorsione, con lui anche altri tre soggetti ritenuti gli esecutori. Tutto è iniziato a gennaio del 2019, quando un imprenditore di un'azienda fallita avrebbe ricevuto una serie di minacce. Poi c'è il calcio con il colpo di scena. Destro l'allenatore del Fano Calcio, dell'Alma Juventus Fano, che si dimette dopo la terza sconfitta, dopo il terzo K.O. E il Fano riparte con Tacchinardi, qualcuno se lo ricorderà, della Juventus. Vaccini invece al Monaldi, arrivano i NAS, il nucleo antisofisticazione dei carabinieri. Siamo sul carlino di Pesero, ieri mattinata di verifiche al centro della celletta. Ieri c'è stata un'altra giornata di attese infinite, mentre a centropagina un'altra rivoluzione, titolo della fotonotizia, nuovi reparti di semi-intensiva arrivano sempre più giovani. Ora, restando in tema di Covid, ieri c'è stata anche la consegna da parte di Asur dei vaccini ai medici di base per poi farli ai propri pazienti. I medici di base in fila per le dosi, ma il problema è la burocrazia. Poi il Carlino intervista, pagina 7, colui che un anno fa sopravvisse al Covid. Un anno fa il primo sopravvissuto, miracolato, ma non lo sapevo, racconta lui. E sotto invece destro lascia il fano in mano a Tacchinardi, l'allenatore si dimette dopo il K.O. di domenica. L'ex Juventus scelto per l'impresa salvezza. Poi basket, WAVL è come tornare a casa, riecco Paolo dopo la complicata trattativa, ora devo rientegrarmi velocemente. Invece il Carlino di Ancona, la fotonotizia è per la visita del sottosegretario al Ministero della Salute Sileri, Pierpaolo Sirelli, Sileri con il, vedete, Acquaroli qui sulla destra, pressing sul governo, pochi vaccini per le marche, appello al sottosegretario. L'occasione è stata la visita a sorpresa nella clinica oncologica, mentre l'assessore Saltamartini dice solo 20.000 dosi per arrivare a fine mese. Intanto il turismo piange, Pasqua deserta, la zona rossa mette in ginocchio ristoranti e alberghi, le sale da ballo protestano, noi siamo invisibili. Ora, chiaramente ognuno ha le sue ragioni, i giornali, così come anche noi, facciamo bene a dare voce anche a tutti coloro che in questo momento sono esasperati, però insomma da una parte abbiamo le terapie intensive strapiene, dall'altra leggere che i gestori protestano perché le sale da balle sono chiuse. È chiaro che sono dicotomie che insomma non servono a nulla, però è giusto dare voce anche a chi in questo momento è in preda a una disperazione non sanitaria ma economica e quindi poi questo è, nel senso che non ci si può fare niente, bisogna solo aspettare che le cose passino, che ognuno faccia il suo mestiere, lo faccia bene e soprattutto che se ne esca il più presto possibile. Poi torneremo a ballare Romagna Mia senza problemi. Allora, occupati per Covid, due letti su tre, come vedete, rianimazione al 61%, le Marche sono la regione con la più alta saturazione ospedaliera per l'epidemia. In tutto sono 1.310 malati di coronavirus presi in carico dalle strutture sanitarie. Tra le nove vittime di ieri c'è anche un fabrianese di 58 anni senza altre patologie. Nell'ultima settimana i casi positivi sono scesi sotto quota 5.000. Le Marche non stanno andando malissimo da questo punto di vista, cioè da una parte abbiamo le terapie intensive, gli ospedali, vedremo il pronto soccorso con tantissima gente, però rispetto alla cartina dell'Italia e alle varie colorazioni dove si evincono chi sale e chi scende a livello di contagi, parlo di contagi, le Marche in realtà sono colorate di azzurro, nel senso che sono con un, ieri leggevo, meno 25.000 casi. Quindi, insomma, come dicevamo anche l'altro giorno, siamo sul plateau, stiamo scendendo, anche se molto lentamente. Intanto il Corriere Adriatico, pagina 8, vedete, titola al pronto soccorso un lunedì in trincea, torna l'allarme rosso. Il presidio del San Salvatore di nuovo sotto pressione, con picco di accessi, quasi 60 ricoveri nell'arco della mattinata, cioè 60 persone da ricoverare, sono un'enormità. Stoppate anche le ambulanze, che nel frattempo vengono chiamate, arrivano, poi però devono rimanere parcheggiate lì, anche per ore, con dentro le persone, ed è qualcosa di impressionante. Noi lo raccontiamo qui, magari qualcuno appunto da casa ci ascolta tranquillamente, ma per chi vive sulla propria pelle situazioni del genere è un inferno. Semiintensiva, nuovo reparto, arrivano sempre più giovani, dice il direttore sanitario Edoardo Berselli, siamo sempre su San Salvatore, create altri 16 posti letto, trasformando malattie infettive. Il direttore Berselli dice in pronto soccorso a flusso continuo di pazienti, anche di 40-50 anni, con una sintomatologia completa. Quindi sempre più giovani, sempre più gravi. L'onda d'urto del Covid non si ferma e costringe l'ospedale cittadino all'ennesima riorganizzazione. Il pronto soccorso del San Salvatore, scrive Benedetta Iacomucci, sulle colonne del Carlino di questa mattina di Pesaro, sono giorni devastanti, con l'afflusso continuo non solo di pazienti positivi, ma a differenza della prima ondata, anche affetti da patologie diverse. Ieri in osservazione e in attesa di un possibile ricovero c'erano 30 negativi e 34 positivi. Un numero enorme, considerando che le condizioni dei pazienti affetti dal virus appaiono molto spesso critiche, anche in fisici giovani e non compromessi da altre patologie. Questo è il motivo per cui è stato necessario, nelle ultime ore, trovare altri posti letto di medicina semi-intensiva, che è il grado prima della rianimazione. è un passo prima, una stanza prima della terapia intensiva. Ma c'è un'intervista, pagina 3, che vi consiglio di leggere questa mattina, sempre sul resto del Carlino, a firma di Davide Eusebi. Parla il dottor Diana, Alessandro Diana, è un dottore che ha 30 anni, è un medico di famiglia che da un anno sostituisce una collega ammalata. I sanitari, dice, riescono a vedere nelle case solo i pazienti gravi. La variante del virus è subdola e aggressiva. Ma dice cose molto interessanti, molto importanti e soprattutto dice che i contagi ormai sono fuori controllo e le squadre USCA, quelle che appunto vanno a casa, non bastano più. I contagi sono fuori controllo. Non riusciamo assolutamente a controllare i contagi. Il Covid si sta diffondendo con maggior rapidità rispetto al passato e probabilmente a causa della variante inglese che, come sappiamo, è molto più contagiosa. Gli ultimi due pazienti che aveva appunto con lui, che ha trattato il dottor Diana, dice hanno 61,50 anni. Il fatto è che la gente pare non aver, lo sottolineo di rosso, il fatto è che la gente pare non aver capito la gravità del momento. Perché non capisce? C'è troppa gente, risponde il dottor Diana, questo giovane medico, c'è troppa gente in giro. Mi vengono i brividi quando sento dire che qualcuno non porta, che non porta la mascherina perché? Perché gli dà fastidio. Questo Covid è molto aggressivo. Io in un anno, anzi, io un anno fa la mascherina me la sono cercata quando ancora non esisteva e quando a 30 anni mi sono trovato a gestire un ambulatorio al posto di un collega malato l'ho indossata e mi ha salvato la vita. E ancora la indosso, attenzione, pur essendo vaccinato. E quanti pazienti gravi ha avuto ultimamente? E lui dice una decina di bisognosi di ossigeno, due casi disperati, tanti altri con sintomi medio-gravi, altri meno importanti, ma è difficile capire. Perché? Perché la variante è subdola. Se prima il Covid, ecco questo è fondamentale, lo segniamo di rosso, se prima il Covid toglieva gli odori e i sapori e così uno capiva subito di essere stato contagiato, ora invece tutto comincia con mal di testa e mal di schiene. Molti non ci fanno caso, vanno a lavorare lo stesso, escono ugualmente, magari senza mascherina o sempre con la stessa, sempre con la stessa, attenzione, e contagiano altre persone. Poi ce ne sono davvero altre di domande e risposte interessanti di questo giovane medico che parla questa mattina di come in realtà appunto, come vedete, tutto torna. Quando si diceva che il Covid, il virus, fa semplicemente il virus e fa il suo mestiere, di contagiare le persone, di contagiare coloro che da qualche parte sbagliano, perché è inutile che poi uno si giustifica, ma io sono stato bravo, ero in una bolla, disinfettavo le mani tutti i minuti. Non è vero, c'è sempre un errore che magari ci passa, che magari non ricordiamo, c'è sempre però un errore che abbiamo commesso. È come un gioco, anche se non lo è affatto, ma da qualche parte quando è, c'è un errore. E allora il dottore qui dice delle cose molto interessanti. Anche la mascherina, che spesso dice uno, la porta, la porta sempre sotto il naso perché sopra dà fastidio. Oppure si vedono certe mascherine che un tempo erano bianche e adesso sono di un colore indecifrabile. Quindi la mascherina va cambiata, teoricamente quelle chirurgiche ogni due o tre ore, quattro ore al massimo, le FP2 un po' di più, però ecco, sono tutte cose che uno non fa come dovrebbe fare. E il virus ci sguazza. Pazienti fragili, questo è un altro tema importante. C'è una marea di gente, qui siamo sulla pagina 10 del resto del Carlino, nella pagina nazionale, un esercito, un esercito di 14 milioni di persone con patologie anche gravi che attende questo esercito, queste 14 milioni di persone che attende la chiamata per fare il vaccino. Ma ogni regione purtroppo va un po' per i fatti suoi. Ogni regione ha codici differenti e dunque ci si ritrova con queste persone che sono appunto malati oncologici. Sono 160.000 i pazienti oncologici in tutta Italia. Poi ci sono altre persone che sono coloro che magari hanno malattie cardiache, i cardiopatici, malattie autoimmuni, immunodeficienze. Insomma, sono un esercito di 14 milioni. Queste persone non sanno quello che devono fare. Ieri abbiamo fatto un servizio che vi invito a rivedere sul nostro canale durante il telegiornale, abbiamo fatto un servizio per spiegare un po' che cosa devono fare appunto queste persone fragili. Andatevelo a rivedere, c'è anche un numero verde che non è il numero per le informazioni sul Covid, ma proprio che vi dice esattamente quello che c'è da fare. Andatevelo a rivedere oppure andate sul sito internet di Occhio alla Notizia troverete questo servizio. Mentre a pagina 9 del Corriere Adriatico su AstraZeneca al Monaldi ci sono 100 persone che lo hanno rifiutato. I NAS sono arrivati per controllare, ma sono controlli di routine, anche se poi la macchina del siero si intoppa. La burocrazia è soffocante inutile perché i medici di base dicono no, questo sempre sulla questione dei vaccini, insomma sono tutte argomentazioni che si fanno, si trovano sui giornali ogni giorno. Intanto è interessante invece come a pagina 4 e 5, sempre nel Corriere Adriatico, questa mattina ci sono gli imprenditori della nostra regione, imprenditori anche con nomi altisonanti come appunto Diego della Valle, della Toz di Casette Dette, ma ce ne sono tanti altri come lui, che chiedono, anzi sono pronte queste aziende a tutto e dicono dateci le dosi, dateci i vaccini, poi ci pensiamo noi a vaccinare i nostri dipendenti. È il momento, come dire, del picco utile. Le centinaia di imprese sparse su tutto il territorio regionale diventeranno presto centro di vaccinazione e contribuiranno in modo determinante alla battaglia contro il Covid-19. Dateci i vaccini, al resto ci pensiamo noi. Urlano i capitani di azienda pronti a sostenere i costi dell'operazione, 15-25 euro a vaccino. E se Brunello Cucinelli ha intenzione di aprire un centro per i vaccini a Solomeo, dove somministrerà 1200 dosi settimanali, anche gli imprenditori marchigiani non sono da meno. La voglia di dare un contributo in questo momento è tanta e Diego della Valle, patron di Toz, Hogan, accelera al massimo. Ai microfoni di 8 e mezzo, il programma di Ligruber sulla 7 va tutto d'un fiato. Quando mi chiamano andrò a vaccinarmi. Se ancora devono fare gli ottantenni, un po' per me ci vorrà. In azienda la metterò a disposizione. Lo abbiamo detto alla Regione. Noi siamo pronti da domani mattina se ci sarà bisogno. E con Diego della Valle ce ne sono anche tanti altri, come vedete da queste fotografie qui pubblicate sul giornale. Intanto Pesaro studia invece il camper dei vaccini. Il camper dei vaccini, Papalini dice adesso focus su maggio, 50 imprenditori, imprenditori offrono gli spazi. Il presidente di Confindustria, appunto Mauro Papalini, dice 9 aziende su 10 sono piccole, dobbiamo aiutarle. Dobbiamo accelerare sulla parte logistica e organizzativa in modo da farci trovare pronti quando finalmente avremo un numero adeguato di dosi. E il presidente di Confindustria Presurbino torna dunque alla carica sulla campagna vaccinale all'interno delle aziende, forte anche della risposta che è arrivata da quelle della sua provincia. In attesa di conoscere gli standard stabiliti dalle autorità sanitarie, sono una cinquantina gli imprenditori che hanno messo a disposizione questi spazi in fabbrica e sono pronti a far vaccinare anche i lavoratori di altre aziende. Cioè laddove, chiaramente, uno non è che deve pensare solo per sé. È bella questa cosa che anche le aziende più grandi diano poi una mano alle aziende più piccole, dove chiaramente non c'è la possibilità di vaccinare in aziende, quindi è bello che queste aziende più grandi aiutino le aziende più piccole. Intanto a Urbino si tira un po' un sospiro di sollievo perché c'era la notizia qualche giorno fa di un positivo, di un falso positivo nel reparto di chirurgia, l'uomo portato in un centro Covid, oggi a Dancone il professor Cicetti in corsa per diventare il nuovo primario dell'ospedale all'ospedale di Senigallia, dunque il falso positivo di chirurgia era però un vero positivo. Quindi prima si era detto che era un positivo, poi che era un falso positivo e adesso invece è risultato vero positivo. L'anziano ricoverato da tempo in reparto all'ospedale di Urbino dopo essere risultato positivo ad un primo controllo lo scorso 17 marzo era stato spostato con il suo letto nell'area contumaciale. Ad un successivo tampone il giorno dopo l'uomo però era stato trovato negativo e per questo trasportato in una stanza isolata. A distanza di alcune ore il 19 marzo il paziente è tornato positivo. Il successivo trasferimento in un centro Covid è avvenuto con prontezza e quindi resta quella finestra di due o tre giorni in cui l'uomo è stato potenzialmente a contatto con il personale sanitario però insomma era stato isolato quindi direi che dovrebbe essere andato tutto bene. Intanto purtroppo invece se andiamo un attimo a Filotrano, siamo sempre qua vicino in provincia di Ancona, purtroppo il virus ha infettato un intero monastero di clausura. Le sue ore di clausura 4 su 11 sono in ospedale e dunque si aggrava l'emergenza sanitaria nel monastero di Santa Chiara costrette alla quarantena anche il vicario del Vescovo e il suo predecessore. Facciamo di nuovo un salto a pagina 11 sul resto del Carlino perché sempre sulla questione dei vaccini Bruxelles snoba Sputnik che è il vaccino russo, Putin invece si vaccina e attacca e dice il no dell'Europa una difesa delle lobby. Battaglia politica sul siero di Mosca. Capite? Quello che dicevamo ormai, quello che vi diciamo, vi dico da diverse settimane, eccolo qua, battaglia politica sul siero di Mosca. Quindi sulla pelle della gente perché oggi avere quattro vaccini o averne cinque a disposizione, adesso ne abbiamo tre, anzi due e mezzo, perché abbiamo Moderna e Pfizer-BioNTech, poi abbiamo AstraZeneca che è un po' zoppicante, quindi due e mezzo. Stiamo aspettando Johnson & Johnson, ne stiamo aspettando anche un italiano ma arriverà verso luglio più o meno. Intanto da un po' di tempo ci si vaccina con Sputnik, perlomeno i russi lo fanno con il loro vaccino. Ora, qua abbiamo sempre snobbato la Russia, probabilmente qualcuno non vuole dare i soldi ai russi, probabilmente qualcuno non vuole dare i soldi, arricchire i russi e quindi si fa meno di un quinto vaccino o quello che è, insomma. Questo è approvato da 55 paesi e strumento di propaganda, in aprile lema in Russia per la revisione e campo a cavallo ad aprile, c'è tempo. L'unione più grande delle Marche, questa è la battaglia invece di Ucchielli, il presidente dell'Unione Pian del Bruscolo, che è un'unione di vari comuni che in tutto fanno 140 mila più o meno abitanti, se non ho letto male, e l'unione più grande delle Marche dice impensabile, Ucchielli dice impensabile, che ci sia un solo punto vaccini e questo punto vaccinale è in questo momento quello della Celletta, quello del Monaldi, a Pesero. Quindi immaginate voi il disagio di questi anziani che devono partire dall'entroterra, dalla Valle Foglia, per arrivare appunto al Monaldi. Poi al Monaldi non è che lo attendono le poltrone comode oppure semplicemente qualche minuto di attesa. Poi come abbiamo visto, e abbiamo raccontato, al Monaldi c'è anche poi da attendere, a volte anche per molto tempo. E vabbè. Andiamo sull'altra pagina. Ecco, la pagina di Fano invece del resto del Carlino questa mattina parla ancora di fusione Aset e Marche Multiservizi. La maggioranza è spaccata. Marche Multiservizi, Bacchiocchi si autocandida. Il sindaco di Pesero Ricci aveva auspicato infatti un presidente fanese alla futura guida della Multiservizi. Una volta fusa, Ricci ha detto, forse per dare il contentino, mettiamoci un fanese, così magari li convinciamo, questi fanesi un po' così recalcitranti che non vogliono fondere questo gioiellino. Io non capisco perché qualcuno... Adesso bisognerà che ce lo spieghi un po' bene questo progetto di fusione tra Marche Multiservizi e Aset. Non si capisce perché nel 2000 Guzzi aveva detto no a questa azienda che è fiorente, che va bene, che è un gioiellino per i fanesi. Non si tocca, non si fonde. Adesso, dieci anni dopo, vent'anni dopo, tutto è cambiato. Perché è cambiato? Cos'è cambiato? Allora, le dichiarazioni che adesso sono aperturiste di Bacchiocchi, il quale aveva detto no e adesso invece dice sì, creano il caos. In comune attacca Giacomoni, questa è una grave ferita. Dunque sulla fusione, scrive Anna Marchetti, Aset Marche Multiservizi, c'è questo caos in maggioranza. Da una parte in comune che accusa il segretario del Partito Democratico Bacchiocchi di autocandidarsi alla guida della futura società dei servizi e dall'altro la capogruppo del suo stesso partito e altri tre consigli comunali, ovvero Cecchetelli, Lucioli e Clini, che parlano di mancanza di rispetto istituzionale. Mentre Scopelliti della Lega convoca la Commissione e chiama Mascarin. Movimento 5 Stelle e la sinistra per Fano, non solo le municipalizzate, basta privatizzare beni comuni. Intanto, tornando sulla pagina 16, sulla pagina di Fano del Carlino, controlli Covid, è in auto che si sgarra, la polizia locale ferma 49 persone, la polizia di Fano e ispeziona 100 attività commerciali. Ne sanziona però soltanto una. In strada invece sono 8 le infrazioni al codice. L'assessore raccomanda, l'assessore sarà Cucchiarini, in spiaggia può andare solo chi abita lì vicino. Intanto guardate questa fotografia con tanto di scritte, scritte che poi sono scritte che capiscono soltanto loro, i graffitari, per gli altri sono scarabocchi e neanche tanto belli. Ride a colpi di bomboletta sul muro di cinta del cimitero, imbrattato buona parte del perimetro, non è la prima volta che accade, scritte anche altrove. Dunque un altro ride vandalico a colpi di bomboletta e sprite. Questa volta siamo nei pressi dell'ingresso del cimitero centrale. Ancora vi segnalo a pagina 17 un'intervista a Monsignor Giovanni Tonucci che ha parlato con Silvano Clappis ed è un'intervista interessante. Monsignor Giovanni Tonucci è stato nunzio apostolico, arcivescovo prelato emerito di Loreto, delegato pontificio emerito della Basilica di Loreto e della Basilica di Sant'Antonio di Padova e abita in questo momento a Fano, perché adesso è in pensione, nella casa dei genitori dal 1952. La casa dei genitori, dice appunto facendo accomodare poi Silvano Clappis per questa intervista ed è molto interessante, ve la consiglio. Poi ancora su Fano il Corriere Adriatico, viabilità e sicurezza, binomio flop, le ragioni della sonora bocciatura. L'opposizione interviene su Via Campanella, Montenerone e Via del Bersaglio e poi su Gimarra e anche Viale Ruggeri. Mentre sull'altra pagina del Corriere il sociologo Tomassini, Maurizio Tomassini, convince tutti, eletto in direzione nazionale delle ACLI, la pandemia come spartiacque tra passato e futuro in campo per sostenere le nostre comunità. Poi la città di Fano che non dimentica il sacrificio di Filippo Montesi, il 19enne, unica vittima della missione di pace in Libano. Poi zona rossa, dai controlli appena una sanzione, multato un solo esercizio commerciale, nessun assembramento invece contestato. Alzata di scudi contro la fusione, bufera in maggioranza nel PD, quattro consiglieri DEM dicono Aset non è del partito, Bacchiocchi politica inqualificabile. Tra loro la capogruppo e la Presidente del Consiglio, colpo di grazia arriva da mascarina. Pressioni sul sindaco, subito la commissione, controllo e garanzia convocata da Scopelliti, l'opposizione dice se ridecida o con Fano o con i Democrat. Mentre un viaggio, anzi no, Fossombrone, addio a Diamantini, storico imprenditore degli orologi, i funerali di Eraldo Diamantini si svolgeranno stamattina con partenza alle 9.45 dall'ospedale di Fossombrone. La cerimonia di addio sarà ufficiata nella cattedrale. Siamo in chiusura, parcheggiatore abusivi al centro dei tamponi e poi ancora da Urbino, sussidi e buoni spesa per chi non ce la fa e sull'omicidio Grilli, processo a padre e zio di Nino De Luca. Vi ricordo che questa sera alle 21 c'è Guarda chi c'è con Davide Marcantonini, si parlerà di cioccolata, artigiano del cioccolato, intervistato da Paolo Notari. Grazie per essere stati con noi, buona giornata a tutti.